Aspen, forte! Dai, Paul! Non è facile diventare un tifoso di calcio. Ci vogliono anni. Ma se ti applichi ore e ore, entri a far parte di una nuova famiglia. Solo che in questa famiglia tutti si preoccupano delle stesse persone e sperano le stesse cose. Cosa c'è di infantile in questo? Ah, e c'è questo brutto intervento di McClintock su Rock Castle. Sicuramente un fallo da espulsione. Non era così brutto! Sembrava brutto, lo ammetto, ma ho sbagliato tempo. Non era intenzionale. Valle. Allora, punizione dal limite per l'Arsenal 89 e... Davis si inchiarica del tiro e... Goal! La situazione è Arsenal dell'89-4, Arsenal del 71-0. Credo che il povero Bob Wilson ci resterà piuttosto male. Quelli non batterebbero mai una squadra così per 4-0 subutua e che sono... sono io una frana. Dovevi scegliere di essere un'altra squadra, allora. Chi altro c'è che in trasferta gioca con la maglia giallo-blu? L'Everton. Allora fai l'Everton. Ok, però ricominciamo dall'inizio. Non posso ricominciare fingendo che John Radford sia John Royle, altrimenti schizzo. Ricominciamo da capo. Zero-zero. Va bene, ricominciamo. Sì.